E' in fase di riqualificazione e ristrutturazione un lungo tratto di strada di collegamento che interessa la tre torrimanna. Da tempo gli automobilisti avevano sollecitato degli interventi urgenti per una strada che crea problemi alla circolazione veicolare, sia per il manto stradale e sia per il restringimento della carreggiata, per l'esistenza di una segnaletica apposta da anni, dove addirittura si può notare un finto tutor che avrebbe dovuto scoraggiare a percorrere il tratto ad alta velocità. Ma purtroppo, proprio in quel punto, si sono verificati vari incidenti stradali causati anche dal ponte, che per la fuorimisura e per la sua faticenza sono state più volte segnalate situazioni di forti disagi e di notevole preoccupazione. Il sindaco di Flumeri, attualmente fuori sede ma contattato nei giorni precedenti la sua partenza, ha rassicurato sull'inizio dei lavori di messa in sicurezza, grazie all'accordo raggiunto tra ANAS e Comune, accordi che in passato non hanno mai sortito ad effetti positivi per la mancanza di un'individuazione della ditta che avrebbe dovuto mettere in posa il cantiere. Intanto, in questi giorni, sembra che l'avvio dei lavori stia trovando finalmente una soluzione e che dovrebbe portare ad una archiviazione definitiva di una questione che si trascina da troppo tempo. Grazie a tutti.